E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Via Sampirisi, il capitano della Lazio, poi entrando in area. Lulic! Lazio in vantaggio! Senad Lulic! Aveva intuito Kordaz, ma non basta l'intervento del portiere del Crotone. Terzo gol in campionato per il capitano della Lazio. La sfida si sblocca dagli 11 metri. Molto freddo il bosniaco a trovare l'angolino. Rigore guadagnato.